Notiamo che questa amministrazione tramite i lavori e le sue scelte ci hanno lasciato una città in completo dissesto, siamo preoccupati, siamo stanchi. Una città sempre più abbandonata a se stessa e questo è il pensiero dell'associazione commercianti Silvicom, stanca a detta degli stessi di accettare scelte scelerate e fatte negli ultimi decenni, come ad esempio quello della pista ciclabile che a sua volta si trascina dietro il problema parcheggi, sempre meno e in certe situazioni anche non regolamentati nel tratto centrale della riviera. Non esente da critiche anche la nuova passeggiata sul mare ed in generale il decoro urbano di una delle città con maggiore affluenza di turisti nella stagione estiva. Non è possibile, non è possibile fare dei lavori senza pensare a quello che è necessario prima. Bisogna procedere per step e qui c'era bisogno di vedere prima i parcheggi, una viabilità, sistemare il manto stradale, avere cura del territorio. E' questo quello di cui abbiamo bisogno, nient'altro. Abbiamo delle idee che però possono essere diverse e non devono essere per forza le nostre. Noi quello che vediamo è una pista ciclabile che sta in una situazione scandalosa ed è stata appena costruita e ancora non finisce. Quindi ci preoccupiamo di quello che verrà e di quello che verrà fatto anche con la passeggiata sul mare. Siamo preoccupati, non vuol dire che non le vogliamo queste cose, è importante. La situazione epidemiologica ed ora il carobollette stanno lasciando strascichi importanti. Per questo si augurano i commercianti l'incontro formale del 17 con l'amministrazione possa essere un primo passo per apporre delle soluzioni concrete. Qua rischiamo brutto, ecco perché noi chiediamo all'amministrazione di ascoltarci che oramai sono rimasti solo 40 giorni della stagione estiva. Sappiamo che sta diventando sempre più breve e quello che ci interessa a noi è far trovare una Silvi pronta, bella, per il quale i turisti possano tornare.